ciao a tutti ragazzi da tfg on demand ci siamo chiesti ma cosa cercano i quarantenni in poi aspetta no non è il quarantenni abbiamo preso i nostri parenti agli otta i 50 in su a cadere in tappi della fotografica andiamo a vedere le pagine che seguono che seguono esatto abbiamo trovato la più bella età dai 40 a 50 anni e oltre e sei freddo afferisci le persone se sei sensibile le persone afferiscono a te ma scusa se sei stronzo afferisci le persone se non lo sei ti fai cazzo i tuoi ma no tu devi capire una cosa quando andremo a 50 anni capiremo la profondità della frase cosa vuol dire questa cosa vediamo un po e vediamo un po i post che ci sono le immagini rive e scusate piene di significato fatte giocare guardate questa fate giocare i vostri nemici a questo meraviglioso gioco i nemici perché vedete effettivamente c'è un buco penso che burro che burloni ma cos'è veramente è farita questa cosa non voglio avere parenti così andiamo avanti profilo non climatizzato chiuso per afa cosa vuol dire che hanno chiuso perché c'è caldo profilo allora mettono tutte le loro cacate su facebook e dopo se la guarda se la guarda la gente va a guardarle si offendono profilo non climatizzato sto cercando di capire allora ho creduto in talmente tante persone sbagliate che oggi quando mi dicono fidati mi viene da ridere io mi fido solo di chi non mi chiede di farlo ma mi dimostra che posso farlo ora tutto questo discorso non cazzo c'è il titiano ferro ma no perché è bello perché ride non lo so sono l'occhio d'amore questa questa la vuoi fare con il tuo profilo esatto nella vita bisogna avere il coraggio di passare dalle parole ai fatti perché ci sono due le fatti perché un occhio non mangia di ferro sulla tua proboscide in realtà è un'immagine pornografica in realtà non è la proboscide c'è per ora i fatti sono la vita è questa nulla è facile niente è impossibile adesso allora posso sparare raggi laser dagli occhi allora abbiamo cambiato pagina siamo alla pagina anni 60 70 80 90 favolosi da di vivere insieme c'è 40 anni così tra così il proprio iniziale noi che i nostri sms erano due squigli al telefono di casa per dire ti penso a quanti anni cosa da questa immagine accompagnata con la scritta e al primo starnuto la mamma partiva con le spremute questo è vero guardate questa immagine noi che caldo pioggia nebbia e neve sempre con pantaloni corti o gonnella non ci ammalavamo mai balle aspetta qui un attimo qui un attimo io ogni volta li tengo con mio nonno pensi quando stava una porcheria stava meglio col cazzo perché quando era lui giovane si riviveva fino a venerando età morto alla nascita ecco questo gran cazzo nonno il buon vecchio ispettore anche io lo guardavo il buon vecchio ispettore sempre con mio nonno è negli anni 60 però ragazzi ma no vedi piano 60 70 80 90 nella pagina facebook razzi di sole idea regalo le ciabatte fatta con dei cactus con scritta ottime ciabattine contro il caldo fialatele a qualcuno che vi sta sulle palle così si funge i piedi adesso fanno anche guarda questa fidarsi è bene come continua non fidarsi è meglio però guardarsi alle spalle ma quindi io mi fido di te però mi guardo alle spalle questo vuol dire ma stai ci stai provando con me guarda perché le robe della rosca non mi fanno morire allora gente di che studia da migliaia di anni come caso funzionano le stelle il sole la luna arriva gli astrologi quando sei nato tu a gennaio quindi tu sei acquario quindi ti spiace quest'estate non riceverai tanto accidentaccio come faccio adesso sono indignato non mi dici se sei indignato non raccolgo le provocazioni perché mi fa male la schiena oddio me l'ha fatto dei bambini e vediamo se trovo una aspetta perché perché fermi tu fermi tu fermi tu fermi tu fermi tu raggi di sole no sembra la stessa pagina chi semina zizzagna non è mai felice ora mi spieghi perché cazzo c'è papa francesco adesso vedo perché è ritagliato male mica sembia la zizzagna lui e quindi è questa pagina facebook rivoluzione italia è una persona di colore con una parrucca i giudici la quelli veri però se questo non c'è niente non c'è un mi piace una condivisione niente quando mi sei indignato ragazzi gli scappisti regalano le parrucche qui abbiamo un'altra ecco ma questa che non è la ministra è la ministra kjent ma perché fanno sta roba perché per loro siccome viene dal congo è di base stupida capito loro vedono colore e viene dal congo è scritto solo il congo qui ed è stupida questo è il mio profilo matteo taylor tfg ragazzi di facebook e queste sono le cose che posto io che non difende che non difende poi arrivano le patch poi arrivano i kjent qui c'è gente che si guarda gli ha dato una pataffa guardate ragazzi guardate perchè tu vedi queste cose perchè gli fa ridere perchè gli ha dato una pataffa e lui non si accorga arriva lì c'è il piccioni fa scurrrr così guarda eh scurrrr e quindi? no povero piccione si parla di stupido scusa quindi il mio profilo tratte solo puttanate ciao a tutti ragazzi e al prossimo video ciao a tutti